Eeeh, ciao ragazzi qui è Sabbit e benvenuti in questo let's play di Dragon Ball Z Kakarot Allora, nella scorsa puntata ce l'avevamo lasciati qui che dovevamo proprio iniziare la gra... La grande avventura con Gohan Dobbiamo... Dicevo che dobbiamo cercare da mangiare al nostro carissimo Gohan Perché come voi ben sapete Purtroppo il nostro carissimo Goku È passato a miglior vita E siamo costretti e Junior ci ha tra virgolette rapito Però più che altro Più che altro adesso inizia la sua fase del duro allenamento Se vi ricordate questo fa parte delle primissime puntate di Dragon Se vi ricordate bene Non ripetere le stesse cose Gohan Non ripetere le stesse cose Non ripetere le stesse cose Scusate 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 oh no now i can't get down little twerp didn't go and get himself killed already did he allora il cannone speciale di junior è preso io però prima di fare ciò ragazzi dobbiamo farci un giretto nel mondo perché purtroppo dragon ball z kakorot essendo un gdr nudo e crudo ha bisogno di potenziamenti aspettate un attimo devo fare una cosina ok cerchiamo un attimo di tenerci le cose vorrei onde evitare di fare le basi ecco ti pareva dicevo proprio di onde evitare questo però comunque e muori vi dicevo che cercavo di fare le missioni secondarie un attimo per conto mio ragazzi vorrei farle un po' per conto mio mica ci sono missioni secondarie vediamo un po' mi pare di no il cannone speciale mi pare che non l'ho ancora sbloccato aspetta un attimo fatemi di ah no eccolo qua cannone speciale io ripeterò per l'annessima volta le missioni secondarie le vorrei fare per conto mio cerchiamo di prendere e vedere gohan che cosa ha fatto un attimo di prendere più oggetti possibili eccomi gohan sconfiggi tutti i nemici nell'arena vabbè direi di iniziare subito sarà un ottimo allenamento per i junior allora io non lo so se vi faccio un taglio ragazzi vorrei cercare un po' di andare avanti con la serie guardate vediamo un po' io come sto messo eh lo fai pure altrove un attimo vediamo un attimo vai 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 vabbè ragazzi io direi di fare che dite faccio un piccolo taglio che ne dite però non sappiamo se ci sono filmati avete capito considerando che ne sono tre potrei farvi un piccolo taglio ragazzi che ne dite beh proviamoci dai cerchiamo un attimo di finire a termine la la cosa dai vai se riesco a battere il mio record sono invincibile guardate ve lo dico speriamo aspetta aspetta vai fuori uno fuori occhio 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 junior eh l'ha preso dritto nell'ano l'ha preso pensare sempre in positivo junior cerchiamo di salvare gohan il più possibile allora dov'è di qua di qua di qua ok facciamoci l'ultima l'ultima sezione vai vai massacrato massacrato oh volevi ragazzi poi con l'arrivo di spatti in zero io cazzo ho fatto le peggiore come vi posso dire i peggiori salti di gioia vorrei essere sincero con tutti cazzo ma quanto cazzo è fico tutto il gameplay ok abbiamo portato a termine questa cosa direi di muoverci allora prima di fare ciò innanzitutto salviamo perché ci sono alcuni punti in questo gioco ragazzi dove è obbligatorio salvare ve lo dico proprio col cuore considerando che siamo già un quarto di giugno mi auguro che entro settembre e ottobre riesco a finire sta serie me lo auguro altrimenti mi vedo costretto a caricare due video in un giorno speriamo mi auguro 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 bene bene allora dobbiamo cercare delle mele acerbe non so qual è il senso però qui di qua l'ho visto che bello però volare così ragazzi ditemi sotto giù nei commenti se mai junior è stato il vostro personaggio preferito a me ci sono momenti che piace come personaggio ma momenti che non mi piace a volte quell'aria di mi credo di essere sto cazzo capito mentre goku percorre la strada del serpentone nell'altro mondo nella speranza di diventare più forte junior cerca di risvegliare la potenza nascosta di gohan ah Ah, ah. Oh, è la luna! Wow, è così grande e rosa! Questa è la prima volta che ho visto una luna! Ah ah, eccoci! Per la miseria, affrontiamo la grande scimmia! Oh! La grande scimmia che è Gohan, ragazzi! Questa è stata una cosa grande ficata! Oh! Ah! È l'unico modo dove dobbiamo spammare un po' di mosse! Ah! Occhio! Ui, ui, ui! Ah! Ha preso in pieno! Per il rotto della cuffia ce l'abbiamo fatta! È stata veramente facile, ragazzi! Una stronzata sta grande scimmia! Come nell'episodio! Come nell'episodio! Eh, purtroppo... In realtà è censurato qui, perché in realtà Gon dovrebbe essere nudo. È censurato. Si vede da un chilometro. Abbiamo la mia proposta attenzione per arrivare, quindi sei ancora di loro. Se potessi comunque capire di salvare i prossimi sei mesi, allora avrai ottenuto l'onore di essere attenzionato dal grande Piccolo. Brividi, ragazzi, che brividi. Che ficata assurda. Bene, adesso il nostro Gohan è costretto a cavarsela da solo, per sei mesi. Consci del fatto che due potenti Saiyan arriveranno sulla Terra entro un anno, i guerrieri prepareranno per loro lo scontro morale. Mortale, scusatemi, che morale, che cazzo dico? Sono passati diversi mesi da quando Junior ha abbandonato Gohan a se stesso. Bene, adesso dovrebbe essere un po' più esperto Gohan. Sono molto freddo. Sono freddo dopo, se solo cuore freddo. Posso veramente andare a prendere un po' di carne. C'è qualcosa che sembra bene. Ma come ho dovuto prendere un po' di carne? Credo che posso... Ho capito! Non posso volare? Vabbè, andiamo a vedere questo odorino. Oh, ma è Girobai! Eh, scusami! Eh... 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 C'è... Eh... 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 allora vabbè questo lo so come si fa ragazzi non ho nessun problema poveri animali però c'è gente che non è che amano la blasme mia ragazzi ma purtroppo nel mondo reale noi siamo pure carnivori e dobbiamo pure sopravvivere mangiando la carne è una cosa proprio del tutto inutile va bene riportiamo a Jirobai questi cervi e pranziamo vai ciao Jirobai Jirobai vedo che ce la stiamo facendo bene abbiamo sbloccato Jirobai lui può andare nella sezione comunità comunità dell'avventura bene abbiamo sbloccato quello ma non quant'altro capirai passano molti mesi dall'incontro fra Gohan e Jirobai Junior durante i suoi allenamenti nota qualcosa di strano chissà che sta succedendo ragazzi è meglio andare a investigare ah ma è Creelie è Creelie Junior eh oh piccolo eh tu sembra più forte che il normale eh sì ho studiato a la casa di commie quindi eh vuoi vedere cosa posso fare? tu non sembra troppo confidente posso dire che questo non succederebbe per te potete mi scusare? chiedo ho fatto ho scusato da un membro di umano di umano di umano di umano di umano una volta voi mi ha scusato Ok, fatti sotto, Kreeley. Scusate se a volte può sembrare che sto zitto. Vi dicevo, scusate se a volte può sembrare che non parlo, ma più che altro perché ci sono queste scene. Vai, 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 vai. Volevo finirlo col cannone, però finiamo così, dai. Prendiamo solo l'arcobaleno, guarda, che schifo. Non è vero, in realtà hai preso. Grazie, credo. Sembra che stai facendo qualcosa di certo nel tuo allenamento. Ok, sì, credo che ho capito. Se non vuoi morire una seconda volta, bisogna fare più attrazione. Fai così, e magari te vedo come più che un pozzo di spazio. Ehi, ti vedo! Sono un studente del grande Mastro Roshi, proprio come Goku. Che significa che sarò più forte, solo tu aspetti! Sì. Abbiamo sbloccato Krillie. E può andare a una comunità Z. Vedo che Krillie ha avuto le sue cose. Oh, Yamuko. Facciamoci la parte con Yamuko. Piccolo. Quindi la potenza che ho sentito era venire da te, no? Oh, 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 sì. Krillin ha detto che stai combattendo con la nostra parte. Che è perfetto. Questo significa che puoi davvero aiutare. Devo provare alcuni dei miei movimenti. Tu combattisci a me? Sei dimenticare che tu guardi. Beh, tu guardi il nuovo e migliorato Yamcha. Grazie a Kami. Eh, è così? Sì, Kami dice che devo combattere qualcuno più forte di me ora. Ma, sai, penso che potrei anche batterti te ora. Non sto parlando di riuscire a scuola di Goku ancora. Scusate, amore, perché sei in per una reale domanda. Ok, ma non mi culo se ti mui. Ok. Vai, cerchiamo di eliminare il 4-4-8 pure Yamcha. Vai, vai, va. Volevi? Sì. Dai, cannone speciale. Pensavi? E invece no, caro Yamco. Vai, vai. Cerchiamo di farlo. Ok, era bom botar a mia. Quattro. Ha, una differenza in potenza dovrebbe essere evidente ora. Qual è? Che sta succedendo? Dove essere meglio di questo. Tu non è troppo brillo, no? Hai proprio pensato che stavo facendo niente mentre stessi trainando? Tessi train tutto quello che vuoi, ma non sarà mai sufficiente per me battere. Oh, no, magari tu sei certo. Non ti senti molto male, tu sei ancora vivi, non? E' qualcosa. Ma hai bisogno di un approccio diverso per il tuo trainaggio. E' sempre stato un personaggio che mi stava sulle palle Yamako, più che altro che era un tipo un po' particolare. L'energia da questa cosa è incredibile. E da come ho capito sembra che l'ultimo sia Tenzing, perché se sono in Guerrieri Z è Tenzing l'ultimo. insieme al Riff. Allora, innanzitutto facciamo un attimo una cosa alla bacheca delle comunità. Ho solo tre minuti, ci facciamo solo questa battaglia. oi oi L'importante è mettere gli emblemi Ragazzi sui propri simboli Allora ho quasi finito Vai facciamoci l'ultima cosa No no non mi avrete Lascia perdere Quindi è inutile proprio Abituati Dai Tensing Piccolo So the power I sensed was from you Looks like you knew I was nearby Not bad for a dead weight like you You've got quite the mouth on you Don't think for a second that I've started trusting you To me To me you're still the enemy I'll defeat you here and now if I must What? You think you actually stand a chance against me? I do I did train under Kami Registrare più di tanto Vai muoviti Non cominciamo a perdere lo scontro Adesso è una lotta contro il tempo Vai Qua si è fatto, quasi fatto Dai, dai, dai che ci siamo Ok, mandato al nanna subito Oh, fatto ragazzi Abbiamo finito Vediamo che si dicono come ultima cosa E poi, salutiamoci Ok, abbiamo sbloccato Tenzing Può andare anche nella comunità Z O nella comunità Forte Poi si valuterà dopo Non vi preoccupate Dai, finiamo Junior Io suppongo di sì, guarda Suppongo veramente di sì Nella comunità Z può andare anche Junior Va bene ragazzi Io direi di salvare un attimo Anzi, vi saluto direttamente Bene ragazzi Io mi farò quelle missioni secondarie Per conto mio Ragazzi Vi invito a lasciarmi un bel mi piace Un commento E qua da Subbit è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao